A che punto siamo con la consegna dei kit e con l'avvio del porta a porta? La consegna direi che è un ottimo punto. Le percentuali di consegna si assestano poco sopra l'80% per quelle che sono le utenze domestiche e ancora di più per quanto riguarda i condominali siamo quasi alla completa distribuzione. Stesse percentuali circa per le utenze commerciali abbassano un po' la media le abitazioni non principali quindi le seconde case per i quali magari non c'è questa impellenza di venire a ritirare il kit oppure qualcuno non ha fatto il contratto della Tari e questa cosa comunque verrà fuori.